Ma visto che siamo in tema di forze politiche e di numeri, vediamo il nostro sondaggio del lunedì. Come andrebbe se si votasse oggi? La novità vera è nell'ultima riga della prima schermata, perché vedete che non c'è più, abbiamo sempre trovato lì, liberi uguali, articolo 1, MDL, cioè la forza che noi chiamiamo quella della sinistra di governo, con speranza, ministro della salute, tanto per intenderci, e invece adesso c'è azione di Carlo Calenda. Andiamo per ordine, Lega 24,4% più 1,1%, Partito Democratico 19,8% meno 0,5%, Fratelli d'Italia 16,4% più 0,2%, Movimento 5 Stelle 15, meno 0,6%, Forza Italia 6,2% meno 0,2%. E come si diceva, azione di Calenda, che pur perdendo un decimale rispetto a lunedì scorso, col 3,5%, è la sesta forza per quel che può contare virtualmente del Paese. Andiamo sull'altra schermata, dove quindi troviamo subito sinistra italiana, MDP, articolo 1, 3,4%, meno 0,3%. Italia Viva, 3% più 0,1%, ancora a basso, ma faccio notare che è l'unica delle forze della maggioranza di governo che non perde in questa tornata. Verdi, 2,3% più 0,3%, più Europa 2,1% più 0,1%, cambiamo 1,2% più 0,1%.